La UFC annuncia finalmente l'ufficialità del match tra Marvin Vettori e Paolo Costa con una sorpresa speciale Alcuni di voi giustamente diranno sapevamo già da tempo che il prossimo match di Marvin Vettori sarebbe stato contro Paolo Costa quindi cos'è cambiato da ieri? E' cambiato che il match era praticamente una virtuale certezza era già stato riportato da tempo ed era stato confermato da tutte le voci più autorevoli nel campo però mancava ancora la cosa più importante l'annuncio ufficiale da parte della promotion un annuncio che è arrivato per l'appunto nella giornata di ieri La UFC però non si è limitata ad annunciare l'ufficialità del match e ha aggiunto una notizia che rende il tutto ancora più speciale e fantastico per noi fan europei e soprattutto italiani vale a dire che la fight night in questione, la fight night del 23 ottobre andrà in onda in prima serata europea esattamente come appena successo con la fight night che avrà come main event Derren Till contro Derek Branson solo che questa volta ci riguarda ancora più da vicino Se pensiamo un attimo alla situazione non è una notizia inaspettata nel senso che la popolarità e la considerazione di Marvin nei confronti di Marvin da parte della UFC e in generale del panorama delle MMA mondiali è cresciuta tantissimo negli ultimi mesi e nell'ultimo anno in particolare ovviamente grazie alla title shot contro la design e grazie al trash talking e al hype che c'è stato prima del match quindi adesso Marvin è ufficialmente una superstar dei pesi medi e viene trattata come tale è una notizia meravigliosa per lui ed è una notizia meravigliosa anche per noi che per una volta non dobbiamo impostare le sveglie grazie a tutti